Ciao, mi chiamo Silvia Pagano e sono un'artista iperrealista. È già da un po' che volevo organizzare un nuovo corso online e per una volta, anziché fare un disegno iperrealistico utilizzando il mio amato bianco e nero, ho deciso di farlo con i pastelli colorati, pastelli secchi per l'esattezza. Così mi sono messa all'opera e ho realizzato diverse lezioni. I due materiali principali che serviranno sono un foglio, e in questo caso utilizzo un foglio pastel matto della Claire Fontaine, e i pastelli secchi carandash, che hanno un'ottima coprenza e consistenza e aderiscono in modo ottimale alla grana del foglio, così da riuscire a creare l'intensità e il tono che si vuole in modo davvero deciso. Se ti va di scoprire di più di questo corso, scrivimi a info-silviapagano.com e se sei interessata o interessato, iniziamo questo corso online insieme.